Buongiorno ai nostri telespettatori, ben ritrovati a Prima Notizia. Il nostro primo appuntamento con l'informazione sulla nuova tv, le vedete alle mie spalle, ci sono le prime pagine dei quotidiani locali e nazionali che andremo a leggere insieme, però noi prima vogliamo cominciare questa puntata di Prima Notizia dedicandoci ai temi della sanità, un ospedale a misura di donna e attento alle problematiche dell'universo femminile. Stiamo parlando dell'IRX CROB di Rio Nero in Vulture che ha ottenuto per la sesta volta consecutiva la massima attestazione di qualità nell'assegnazione della Fondazione Onda. Un apposito team presieduto da Walter Ricciardi ha validato i bollini conseguiti da questi ospedali. Sentiamo Lucia Pietrafesa. Per il sesto anno consecutivo il CROB di Rio Nero è stato premiato con il massimo dei tre bollini rosa previsti dall'Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna per gli ospedali impegnati nella promozione della medicina di genere. Un impegno quello del CROB riconosciuto dalla Fondazione Onda già nel 2008 con il primo conferimento di due bollini rosa. Una storia a lunga 13 anni che distingue l'istituto anche per questo biennio grazie ad un'offerta di servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie che riguardano un universo femminile. La valutazione delle strutture ospedaliere e l'assegnazione dei bollini rosa è avvenuta tramite un questionario di candidatura composto da oltre 400 domande, ciascuna con un valore prestabilito suddivise in 15 aree specialistiche. Un apposito comitato consultivo presieduto da Walter Ricciardi, professore di igiene e sanità pubblica dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, ha validato i bollini conseguiti dagli ospedali. Referente Bollini Rosa per il CROB è la dottoressa Graziella Marino. Tre i criteri di valutazione tenuti in considerazione. La presenza di specialità cliniche che trattano problematiche di salute tipicamente femminili, tipologia e appropriatezza dei percorsi diagnostico-terapeutici e servizi clinico-assistenziali. L'offerta di servizi relativi all'accoglienza delle utenti e all'adegenza della donna a supporto dei percorsi diagnostico-terapeutici. E infine il livello di preparazione dell'ospedale per la gestione di vittime di violenza fisica e verbale. E continuando ad occuparci di sanità, coronavirus è stata aperta la piattaforma di prenotazione per la dose booster per la fascia dei cittadini tra i 18 e i 40 anni che hanno fatto la seconda dose non meno di 5 mesi fa. Per quanto riguarda l'asma, l'azienda sanitaria di Matera fa sapere che la vaccinazione sarà aperta dal 6 dicembre solo previa prenotazione sul sito di poste italiane che dalle ore 14 di oggi, 3 dicembre, aprirà gli slot per la suddetta fascia d'età. Mentre per fragili e over 60 la vaccinazione è aperta senza prenotazione. Intanto ieri, dopo il caos e le file dei giorni scorsi, sono arrivate 12.000 dosi di vaccino che permetteranno alla nostra regione di proseguire spedita con le inoculazioni. Quasi 440.000 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino, circa l'80%. Il 73% invece ha ricevuto anche la seconda e il 10 la terza. Intanto dal commissario nazionale è arrivato il Via Libra dal prossimo 16 dicembre per le somministrazioni di vaccino ai bambini tra i 5 e gli 11 anni. In Basilicata sono circa 31.000. Per questo sarà un protocollo con i pediatri di libera scelta che hanno messo a disposizione i loro studi ma anche con quanti hanno offerto la disponibilità a vaccinare negli hub delle aziende sanitarie. E andiamo a vedere la prima pagina di oggi del quotidiano, la nuova del Sud. Eccola qui. In primo piano c'è l'emergenza coronavirus, guardia alta contro la variante Omicron, Covid, intensificate le attività di tracciamento con 1.340 tamponi. Il tasso di positività scende sotto il 3% ma nella settimana dal 24-30 novembre i contagi sono aumentati del 29,1% senza però nessun impatto diretto sulla curva dei ricoveri. Andiamo al taglio alto della nuova. I sindaci lucani fanno rete contro il gioco d'azzardo e la Sileo li riunisce a Potenza. Ieri la giornata contro la ludopatia è istituita con legge regionale. La presidente dell'osservatorio sulla zardopatia e prima firmataria del provvedimento approvato nel 2019 incassa il consenso bipartisan dei comuni e annuncia l'avvio del cambiamento. Quello vero dice Dina Sileo. E poi nella spalla c'è Lucania Felix, quasi tutti in silenzio, i sei arrestati e detenuti a Catanzaro. Sono cominciati gli interrogatori di garanzia altra lunga giornata, quella di ieri. Sotto l'apertura il caso, simboli cristiani sotto attacco, teche religiose imbrattate con scritte oscene allo sgomento della chiesa e l'invito a famiglie, genitori e associazioni a riflettere su quel malessere sempre più diffuso tra i giovani. L'opera infinita è diventata realtà. Ci riferiamo al tratto della bradanica. Dopo anni di attese e rinvii è stato riaperto anche l'ultimo tratto di questa importante arteria lucana. E poi c'è il congresso PD con le polemiche. che la Cervellino potrebbe a questo punto lasciare. Vediamo allora invece nello sport. Ci sono i pesi, la pesistica, occasione mondiale per Telesca. Oggi in gara in Georgia per una medaglia e per il ranking. E per il calcio a 5 in serie A, big match per il CMB Matera. i biancazzurri sfidano la capolista Padova. Andiamo a pagina 3 della nuova Covid. Curva in leggero aumento ma nessun impatto diretto sui ricoveri. Nella settimana 24-30 novembre contagi in su del 29,1%. Intensificato il tracciamento via libera ai vaccini per i bambini. E poi vediamo riportate qui tutte le tabelle che come al solito nel fine settimana vengono diffuse dalla fondazione privata Gimbe. E si riferiscono all'andamento appunto della pandemia in tutte le regioni d'Italia. Andiamo avanti. Siamo alla cronaca giudiziaria con l'inchiesta Lucania Felix. Altra lunga giornata di interrogatori. Sentiti ieri in videoconferenza i sedi tenuti all'interno del penitenziario calabrese. Pare scongiurato il rischio di decorrenza dei termini per le udienze saltate a causa dei casi Covid negli istituti di Lecce e anche di Secondigliano. Qui vediamo i due massimi imputati. Stefanotti e Martorano. Poi essersione aggravata dal metodo mafioso chiesi nove anni per Alessandro Cassotta. Il 34 anni si sarebbe fatto consegnare 300 euro da un imprenditore di Rio Nero. La sentenza di primo grado del Tribunale di Potenza è attesa per il prossimo 17 dicembre. Andiamo avanti. Siamo all'approfondimento sulla nuova del Sud che è dedicato all'evento che si è tenuto ieri quando si è celebrata la giornata regionale contro il gioco d'azzardo. La nuova titola così la passionaria leghista che incassa l'apporto bipartisan dei sindaci e non rinuncia al cambiamento. Andiamo a leggere, la vediamo nell'immagine, la consigliera regionale Dina Sileo è anche presidente dell'osservatorio sul gioco d'azzardo. La fossa in palio è alta, il gioco d'azzardo in regione preoccupa ma la risposta coesa dei comuni all'appello della consigliera regionale Sileo resterà nella storia quale fatto in solito. Quindi c'è anche un'analisi politica della vicenda oltre a quella dedicata appunto alla cronaca con l'istituzione della giornata regionale che è stata fissata proprio al 2 dicembre da una legge approvata dal consiglio regionale. E prima di continuare a leggere la nuova del sud facciamo il punto proprio sulla viabilità dopo un'attesa durata oltre 20 anni ieri è stato finalmente inaugurato l'ultimo tratto della bradanica che collega Matera all'area nord della Basilicata e alla vicina Puglia. Quattro gli svincoli per un investimento complessivo di oltre 77 milioni di euro. Un'opera strategica per l'assessore Merra che ha voluto avviare un percorso di confronto con i sindaci del Materano in vista della gestione del PNRR e proprio su questo arriva il monito dell'ex sindaco Raffaello De Ruggeri. Sentiamo Isabella D'Andrea. Un'arteria fondamentale oltre che storica non solo per l'importanza che riveste per la mobilità dei Lucani ma per la tempistica di realizzazione che ha superato i 20 anni. L'ultimo lotto della bradanica nella zona fra Timari e il Borgo Lamartella alle porte di Matera è finalmente operativo e fruibile. Quattro gli svincoli per la connessione con la viabilità circostante per un investimento complessivo di oltre 77 milioni di euro finanziati da ANAS e dalla regione Basilicata. Uno di sé a lunghissima, simbolo dell'inefficienza amministrativa è che oggi, dopo decenni di stasi, ha visto consegnare alla comunità un'opera che rappresenterà una grande occasione per connettere tutto il Materano all'Alto Bradano oltre che alla vicina Puglia. Si completa così una direttrice stradale molto importante ha detto l'assessore regionale alle infrastrutture Donatella Merra. Quanto accaduto in questi anni, ha aggiunto Merra, dimostra che il ruolo della regione non si limita ad intercettare le risorse per rendere competitivo il territorio. La regione deve monitorare passo dopo passo. Merra ha inoltre annunciato un tavolo permanente con i sindaci del Materano per il monitoraggio della rete infrastrutturale anche alla luce della programmazione strategica in vista della gestione dei fondi del PNRR. E proprio su questo punto arriva la sollecitazione del già sindaco di Matera, Raffaello De Ruggeri. Dopo aver atteso troppo tempo per la bradanica evidenzia De Ruggeri, ora si impone un'azione energica perché con il PNRR non è più possibile trovare giustificazioni nella mancanza di risorse ed in ciò l'assessore Merra deve continuare la sua opera. Serve grande impegno perché entro i termini perentori dell'Unione Europea il raccordo ferroviario La Martella-Gioia del Colle e l'essenziale trasversale Murgia-Pollino siano progettati, finanziati e realizzati senza contare il tratto stradale della Matera-Ferrandina. E ci spostiamo ancora in edicola con la politica. PD, il congresso delle polemiche, la Cervellino potrebbe lasciare. La candidata alla segreteria attacca sulla scelta dei garanti e Margiotta, oltre il bipolarismo tradizionale presentata ieri a potenza la lista provincia al centro, insieme azione, coraggio Italia, Italia vive, movimento civico, grande Lucania. Andiamo avanti, vediamo qui slogan altrove, Summa della CGL, incalza sugli investimenti dell'Eni in Lombardia, regione esca dall'immobilismo e pretenda alla Basilicata quale hub dell'idrogeno. È necessario aprire un tavolo nazionale, rinnovo l'appello ai parlamentari lucani, affinché sollecitino aperture al confronto. E poi crescente il dialogo sociale di chi vive nei piccoli centri, tortorelli della Will, bisogna mettere in sicurezza le famiglie lucane. Prosegue il tour della Basilicata dell'assessore regionale alle politiche agricole e forestali Fanelli per spiegare ai giovani tutti i dettagli tecnici del nuovo bando sul primo insediamento destinato alle nuove generazioni. Dopo la tappa di Murphy, oggi sarà la volta di tricarico, sabato a Sanfele e il 9 dicembre si sposterà ad Accettura. Sentiamo. Fare dell'agricoltura una passione di vita, ma anche una prospettiva imprenditoriale per consentire ai giovani di restare in Basilicata. È il senso alla base della misura 6.1 per incentivare la formazione di nuove imprese agricole, per la quale sono stati stanziati in totale 15 milioni di euro in aiuti forfettari, concessi fino a 70 mila euro. Risorse aggiuntive concesse dall'Europa per il biennio 2021-2022 a valere della vecchia programmazione. Il nuovo bando sul primo insediamento è destinato in particolare ai giovani. L'assessore regionale alle politiche agricole, Francesco Fanelli, prosegue il suo tour per i territori per spiegare ai possibili beneficiari, le nuove generazioni, tutti i dettagli tecnici dell'avviso. La tappa di Melfi e la presenza del sindaco Giuseppe Maglione nell'aula consigliare è stata la sesta in calendario. Un paese come Melfi, che ha con la sua soprattutto prevalente vocazione agricola, questa iniziativa di avvicinare eventuali giovani imprenditori ad un settore così importante come l'agricoltura può essere con volano un valore aggiunto proprio per lo sviluppo del territorio, puntando magari anche proprio su un'agricoltura di qualità. Fanelli ha sottolineato l'importanza di non sprecare le risorse pubbliche destinate solo a chi realmente sceglie di fare dell'agricoltura la sua scelta di vita e di lavoro. Il bando, emanato a distanza di tre anni, di concerto con le organizzazioni professionali, tiene conto sia del livello di istruzione che delle esperienze lavorative dei partecipanti. Dai 18 fino ai 41 anni non compiuti per chi è in possesso di partita IVA agricola da non più di 24 mesi dalla richiesta di aiuto. Penso che i giovani devono rimanere su questo bellissimo territorio che abbiamo, che va assolutamente valorizzato, anche perché come possiamo vedere c'è una fuga proprio di queste persone giovani che vanno all'estero per cercare opportunità che volendo potrebbero essere benissimamente trovate nel nostro territorio. Quindi aprire magari un'azienda, magari un'azienda di allevamento, tantomeno mi riguarda l'agricoltura e la natura, perché è proprio quello che attualmente interessa, è proprio l'agricoltura con tutti i vintori, nel senso gli animali e quant'altro. Ci dedichiamo ora alla cronaca cittadina. Andiamo a leggere la pagina dedicata alla città di Potenza sulla Nuova del Sud con questo episodio. Tech, religiose, vandalizzate, Ligorio sono il sintomo di un malessere diffuso tra i giovani. Vediamo, i gnoti hanno imbrattato la statua di San Valentino ad Abriole, un'edicola votiva a Parca Aurora, il Vescovo di Potenza chiama alla riflessione famiglie, parrocchie e anche associazioni. E poi ancora special Olympics, anche gli studenti lucani in piazza al fianco dei disabili, oggi sulla Nuova TV, uno speciale dedicato al tema. E poi andiamo avanti, ancora una maximobilitazione per dire no all'impianto di San Sago, sindaci della Valle del Noce sotto la regione. Alla protesta si uniranno anche i primi cittadini dei paesi della costa tirinica di Calabria e Campania e rappresentanti dei settori turismo, pesca e anche ambiente. E poi dopo Potenza è il caso di Tolva e l'ISPRA intervenga subito. Stiamo parlando della presenza dei lupi in paese, preoccupa questa situazione, lega ambiente è urgente applicare subito i protocolli previsti a tutela delle persone e degli animali, specie protetta. E siamo allo sport, il CMB Materna, avevamo anticipato leggendo la prima pagina della Nuova del Sud, in abito da sera, al Palaercole c'è la capolista Padova. E poi ancora, vediamo, Telesca tenta un'alzata e ridate, Lucano impegnato in Georgia nei campionati del mondo, che reggerà nella categoria degli 81 kg. L'atleta di Pietragale è riduce dal sesto posto alle Paralimpiadi di Tokyo e cerca punti per Parigi 2024. E prima di andare a leggere l'altro quotidiano regionale, ci sono le previsioni meteo. Ben trovati, un aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. Situazione per questa giornata di venerdì sul Vecchio Continente, con ancora l'anticiclone che mantiene i suoi massimi molto più ad ovest, al largo del Portogallo, sulle Azzorre, e quindi permette la discesa di correnti artico-marittime, dal nord atlantico, dal mar di Norvegia, nel cuore del Vecchio Continente, dapprima sugli stati oltralpe, ma poi anche sull'Italia, con formazione di minimi depressionari. Ecco, di fatti, le precipitazioni venerdì al mattino, ancora sul medio adriatico Emilia-Romagna, poi miglioramento qui dal pomericcio, mentre insisterà qualche precipitazione anche nella seconda parte del giorno, al sud, con venti sostenuti in ingresso di Maestrale e Tramontana. Andiamo al dettaglio previsionale sull'Italia, una bella giornata sulle regioni settentrionali, tra Venezia e Nordove, stampi e apertura del cielo, con un lieve aumento delle temperature massime. Al centro Italia, Emilia-Romagna, nuvolosità e qualche residuo fenomeno in mattinata, poi migliora dal pomeriggio, mentre al sud, ancora giornata compromessa, con delle piogge, dei rovesci e venti forti. Dettagli maggiori li trovate scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, schierite alternate a nubi sparse. In montagna, cieli coperti con scrosci di pioggia intermittenti. Nel pomeriggio, sulle coste, cieli coperti con piogge battenti. In montagna, cieli coperti con piogge battenti. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, parzialmente nuvoloso, con schierite prevalenti. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni. In montagna, bel tempo, con cieli sereni. Sentenza del Tribunale di Matera. E poi, nella spalla, ci sono i due eventi di ieri, con il taglio del nastro della Bradanica, dopo 30 anni. La voglia di nastro, dice il quotidiano, supera anche l'imbarazzo. E poi, bruciati alle slot, oltre 50 milioni sindaci contro la ludopatia. Tre bolini rosa, salute donna, massimo riconoscimento per il San Carlo. Lettera della dirigente Messina, lascia fratelli d'Italia, vertici lucani, non all'altezza. Andiamo in fondo alla pagina. Bestemmi oscenità sulla Madonnina, oltreggiata alla teca del Parco Aurora, l'amarezza di Guarente e del Vescovo Ligorio. Un altro episodio sacrilegio su una statua di San Valentino. A Melfi e Sorsione, chiesti nove anni per Cassotta. E prima di spostarci sui quotidiani nazionali, qualche istante di pubblicità. Capital Fair, specialisti nella lavorazione dell'acciaio tondo per cemento armato e gabbie per pale di fondazione. Materiali di qualità e attrezzature all'avanguardia, per soddisfare ogni tipo di esigenza. Lavori di precisione per garantire alti standard qualitativi. Lo staff sempre aggiornato al vostro servizio. Capital Fair, tradizione e innovazione da oltre 30 anni. Altamura, via Gravina 139. Capitalfair.it La ITMSRL opera dal 1997 su tutto il territorio nazionale ed internazionale. Siamo specializzati nella progettazione e realizzazione chiave in mano di capannoni in struttura metallica, il legno lamellare, cemento armato e celle frigorifera d'uso industriale. Assistenza post vendita qualificata, sopralluoghi gratuiti, innovazione, tecnologia e lunga esperienza. Per informazioni 392 02 08 806 A volte basta un gesto per dare inizio ad una storia a colori fatta di emozioni, scelte, fiducia. Una storia che va costruita passo dopo passo, insieme a chi da oltre 40 anni costruisce il futuro. E non importa di quanti capitoli sarà, perché basta essere scritta con passione, curando ogni dettaglio, per dare vita ad un finale che in realtà sarà solo un nuovo inizio. Con Pascale Arredamenti, la tua comodità è in buone mani. Siamo Ezio e Rocco Calciano e il nostro panificio pasticceria ha ben 40 anni di attività. Ogni nostro prodotto è realizzato secondo una tradizione totalmente artigianale, priva di semi lavorati e conservanti. Il punto di forza dei nostri prodotti è il lievito madre. Rinfrescato 4 volte al giorno, ogni 4 ore garantisce morbidezza, fragranza, profumo e conservabilità del prodotto finale. La nostra produzione comprende panettoni, colombe, panvasotti e biscotti. Calciano SRL e Viale Regina Margherita 40, Tricarico. Cominciamo la nostra rassegna nazionale con il Corriere della Sera. In primo piano l'emergenza Covid, ospedali sale la pressione, aumentano i ricoverati gravi, boom di vaccini per i bambini. Si parte il 16, Covid-19, Milano riapre il reparto in fiera, tutta l'Europa in rosso, zone gialle soltanto in Italia e Spagna. E vediamo cos'è accaduto in Germania, cerimonia di congedo con elogio al nostro paese per la Merkel, ultimo atto, Novavax in lockdown. E poi ancora su Repubblica, l'Europa dell'obbligo, dice Repubblica. Dopo l'Austria anche la Germania imporrà il vaccino per legge. Palazzo Chigi, ipotesi gennaio per i lavoratori. Salgono ancora i casi in Italia, sfiorati 17 mila in un giorno per l'immunizzazione dei bambini. Si parte il 15 dicembre, inchiesta Camici, i PM chiedono il processo per Attilio, Fontana. E poi nella spalla c'è la notizia diffusa dall'Istat, più lavoro 35 mila assunti nell'ultimo mese. Ma sono, ahimè, tutti uomini. E sulla stampa, nelle mie asle, niente tamponi, a Novavax. La lettura della stampa oggi non è delle migliori. Passiamo al Libero e no a chi vuole rubarci il Quirinale. Il Quirinale, petizione di Libero, firmate sul sito e su Change.org, no a chi vuole rubarci il Quirinale. Scrivete a nonrubateilquirinale.com e poi aumenti fino al 400% bollette allarme rosse. Ecco le storie delle imprese che rischiano di chiudere a causa dei rincari. E tra poco anche alle famiglie toccherà pagare, dice Libero. Sul Fatto Quotidiano, in primo piano, Cingolani vuole a capo del PNRR il McKinsey Boy, multinazionali così migliori da ricorrere ai big, anche privati, dice il Fattori. Ecco il nucleare, indica Paolo D'Aprile a capo dipartimento per il piano iscritto da lui. E il governo in Unione Europea dice sì all'atomo. Ci spostiamo ora, andiamo a leggere la Gazzetta dello Sport e in primo piano ci sono due allenatori eccellenti. In Zaghigno, dice la Gazzetta dello Sport, squadra equilibrata, gruppo di ferro e giocatori in multiruolo da Ciala a Bastoni. Così l'Inter ha ritrovato il ritmo scudetto e domani ci sarà la sfida all'Olimpico tra le due squadre, appunto la Roma e l'Inter. E poi c'è un riquadro dedicato al velocista Jacobs, campione olimpico 2020. Vado più forte, Jacobs, Casa Gazzetta. È uno show, preparo una nuova partenza dai blocchi con il piede sinistro per migliorare senza pormi dei limiti. Bene, era questo l'ultimo quotidiano nazionale che abbiamo voluto leggere insieme. Prima notizia si ferma qui ma torna alle 10 con Prima Notizia all'approfondimento. Con Celestino Benedetti e i suoi ospiti in studio a seguire tutti gli altri appuntamenti come da Palinsesso, da parte mia è tutto. Grazie per averci seguito. A tutti voi un buon proseguimento di giornata. Grazie.